Ciao ragazze sono Nathalie e oggi vi farò vedere una collezione cioccolatosa. Veramente questa collezione di Misaudanel Pro non ha niente a che fare neanche nel nome con il cioccolato però la mia prima impressione vedendo questi colori non so perché è stata questa. Come sempre vi ricordo che sotto nella descrizione di questo video troverete tutte le informazioni di Misaudanel Pro e potete sfruttare il mio codice sconto se dovete acquistare qualcosa. Andiamo a stendere tutti i colori. Primo colore è davvero molto bello a me dall'associazione con il caramello. Ok non ho fame ma ho perennemente associazione dei colori con il cibo. Un colore davvero molto bello e naturale. Il prossimo colore è un colore dorato. C'è il glitter dorato davvero super fine copre tutto in una passata e si abbina perfettamente con ogni colore di questa collezione. Sul mio Instagram troverete già un video tutorial dove ho utilizzato questi colori. Ovviamente ho disegnato cioccolato. È un video tutorial semplice da eseguire e davvero molto molto carino. Sono convinta che piacerà alle vostre clienti. Il prossimo colore è un bordeaux molto molto scuro. Come vedete copre tutto in una passata. Si ha otto livello in pochissimi secondi. E' davvero molto bello autunnale. 104 qua nessuno mi può dire niente. Questo è color Gianduia. Non ridetevi prego. Questo colore idem copre tutto in una sola passata. Catalizza in lampada per 60 secondi. E l'ho utilizzato proprio in quel tutorial che vi dicevo. 105 è un colore super delicato. Guardate se tra le vostre clienti ci sono amanti di nude e di rosa. Questo vi salverà la vita tutto l'anno. Perché copre in una sola passata. Ultimo colore che si abbina perfettamente al precedente. E' un colore leggermente glitterato. Anche questo molto delicato. Mi verrebbe da dire che è un nude leggermente color pesca. Proprio bello bello bello. Sapete benissimo che si è vicino a Black Friday. Quindi seguitemi su Instagram perché settimana prossima. Nelle stories vi svelerò delle cose molto importanti. Qui vedete tutti i colori della collezione messi insieme. Secondo me è molto carino e elegante. E si adatta per tutto l'anno. Non sono riuscita a resistere. Vi farò vedere le nail art di quel tutorial di cui vi parlavo. Come vedete è molto carino. Non è tanto difficile. Quindi andate a vedere il tutorial. Salvatelo e mettete il like. Mi farà molto piacere. Vi ricordo che troverete sotto la descrizione a questo video. Tutti i miei social. Tutti i social di Misao Adanael Pro. Tutte le scontistiche possibili e immaginabili. Quindi seguitici su Instagram. Per non perdere le novità. Settimana prossima.